Ciao, un caro saluto a tutti gli amici di Fan Week. Io sono Peligro e sono qua per ricordarvi che il 25 maggio è uscito il mio nuovo album Mietta Sono Io, disponibile in tutti i digital stores e su tutte le piattaforme di streaming. Lo trovate su iTunes, lo trovate su Spotify, lo trovate su Apple Music e vi ricordo anche che è online sul mio canale YouTube Peligro Channel, il videoclip della parte migliore. Iscrivetevi, fatemi sapere cosa ne pensate, spero veramente di poter tornare presto a chiacchierare con voi. Un abbraccio, non c'è limite allo show.